Stessa posizione delle mani, power slam. Un po' più avanti, mani unite, accoscia di più, accoscia di più, vai su, devi schiazzarla. Ok, alternati in squat, vai su e giù in posizione di squat, da alto a basso. Presa normale, movimento alternato. Sali e scendi, su, vai su e giù con le gambe, Gabriel, su e giù. Su e giù, su e giù, dai, più veloce, più veloce. Vai, vai, vai giù bene in accosciata. La schiena, mi raccomando, stop. Esatto, affondo laterale. Gambe partenza larghe, rimangono ferme. Ok. E fai l'accosciata laterale. Grazie. Grazie. Grazie.